Facciamo Mar de Molada come seguito di Bayons 23. Cosa c'entra quella storia con questa? Quella è già scritta, è successa 60 anni fa, riguarda una piccola valle di montagna. Ok, oggi la fragilità di questo territorio è legata allo smaltimento delle acque, quando ce ne sono troppe, e all'approvvigionamento delle acque quando ce ne sono poche. Le criticità legate al riscaldamento climatico, ma legate anche al consumo del suolo, allo spazio ridotto, sono abbastanza sotto gli occhi di tutti. Non so se avete mai cercato sacchi di sabbia quando ce n'è bisogno, non si sa a chi chiederli. O se vi siete chiesti, devo fare una valvola di non ritorno in taverna o in cantina perché me viene sull'acqua. Problemi inimmaginabili fino a qualche tempo fa.